Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signori, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi abbandono, Dio, nelle tue mani. Gira e rigira questa argilla, come creta nelle mani del vasaio. Dale una forma e poi spezzala se vuoi. Domanda, ordina, che cosa vuoi che faccia? Innalzato, umiliato, perseguitato, incompreso, calunniato, sconsolato, sofferente. Nutria tutto. Non mi resta che dire, su esempio di tua madre, sia fatto di me, secondo la tua parola. Dammi l'amore per eccellenza, l'amore della croce. Non delle croci eroiche, che potrebbero nutrire l'amore proprio, ma di quelle croci volgari, che purtroppo porto con ripugnanza. Di quelle che si incontrano ogni giorno nella contraddizione, nel successo, nei falsi giudizi, nella freddezza. Nel rifiuto, nel disprezzo degli altri, nel malessere e nei difetti del corpo, nelle tenebre della mente e nella rita del cuore. Allora, solamente tu saprai che ti amo. Ti adoro, Croce Santa, che vostri ornata del corpo santissimo del mio Signore, coperta e tinta del suo preziosissimo sangue. Ti adoro, mio Dio, posto in croce per me. Ti adoro, Croce Santa. Per amore di colui che è il mio Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettino i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, preda per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.